Ah, bentornati sulla Twinkler Construct con le mie mod! Ed oggi altrimenti con una mod in più, attenzione, ho aggiornato la Mob's Properties Randomness. E ho fatto, per fare testo, aggiunto un po' di cose, tipo ho reso i pillager meno potenti, anche i Vex, ho messo che i zombie sparano con le più svariate armature, e ho messo che i creeper l'esplosione è casuale. Innanzitutto non so se è dato errore, vabbè, 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 vabbè. Allora, poing. Dunque, stiamo andando verso di là, se non mi sbaglio, ok, quindi... ...è di ripartire verso l'infinito e oltre. Cosa c'è lì? Un altro villaggio. Un normalissimo villaggio. Via. La musica è via, è così. Perché no? Un po' di cibo. Ehi, maiale, t'ho visto dove stai. Oh. Perché non va? Ah, perché gli stipoletti non ti danno armor, quindi non funziona la cosa. Maledizione. Oh, ho smesso anche di piovere. Purtroppo ho dovuto togliere la mod tipo Optifine, perché mi bloccava tutto. Non riuscivo più a entrare nel mondo. Ho detto, vabbè. Pazienza, pazienza. Non è la fine del mondo. Via. Ah, un altro... No, non è un cottage quello. Che cosa essere tu? Qui. Oddio. Mucca è buono. Perché no? Perché no? Ammesso. Grazie. Alla mucca che mi si è venuta in faccia. Non letteralmente. Cosa è successo qui? Scusa. Ah, già. Oh, signore. Giusto. Maledizione. Performant cambiava la generazione del mondo. Ora mi ritroverò un altro muro di nuovo. Quindi anche quella casa fosse degenerata a metà, no? Wow, wow, wow. Guarda qui. Che diavolo. Dov'è che è tagliato? Scusami. Ah, qui. No, sì. Ah, qui è tagliato. Però è figo. Guarda, gli iscriviti sono un po' ovunque. Oh, che cos'è quella cosa? Vedo un sacco di gente che sbrilluccica. Va, fa qua. Ehehehe. All'attacco, vai. Liscissimo. Ma va bene. Non l'avevo visto. Non mi sembrava che l'altra volta avesse tutto questo davanti. Forse perché era tutto occupato. Ok, vi picchiatevi, bravi. Oh, shit. Oh, questo è incazzato. Oh, 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 oh. Via, evacuare. Ok. Fanno più male del previsto, questi stronzi. Ok. Copriamo un po' di vita, va? Ah, è anche proprio Projectile Protection. Ecco perché. Potrei rilanciare lì. Mi rilancio un attimo. Aia. Mi lancio sulla montagna, via. Ok, mi sono lanciato abbastanza bene. Non nemmeno più Phantom addosso. Ottimo. Tutto calcolato. Ok, mi devo ricordare che se rimetto la mod delle cose di disattivare la generazione del mondo. Se no, questo succede. Per fortuna vicino a casa ho più o meno esplorato ovunque. Quindi non dovrei trovare troppi muri. Guarda lo stronzo lì. Ah. Aia. Ho detto Thorns. Ottimo. C'è qualcosa di più sostanzioso da mangiare. Tipo un panino. Due panini. Ottimo. Ok, prendere la mia roba e me ne andrei. Grazie, gentilissimo. Mamma mia, che rompimento di maroni sto Thorns. Il problema è che non c'è manco protection, quindi... Thorns mi fa tutto il danno, praticamente. E lo prendo abbondantemente in cui. Ah, l'ho ucciso. Ottimo. Torce non ne ho? No. Ah, ecco una cosa che dovevo prendere la legna per fare torce. Ah, ok. Trovata. Grazie, gentilissimo. Ok. Guarda questo come corre. Questo animale criminale. Beh, qualcuno ha detto ferro e oro. Oh, 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 oh. Guarda questo, quello è il metodo di... Netherite. Adesso il zombie villager mi sa che ce l'ho già. Ok. Salim, su. No, che tu sei pericolosissimo. Fortuna. Ok. Ok, è stato facile, è stato facile. Pover uno, pover uno. Eh, se ci fosse nessuna... Monastero. No, basta. Devo ancora trovare quello lì. Stato all'inizio. Quindi, via. Via il coso per le candele. Ok. Mele... Me le mangio adesso. Poi c'era uno scheda. Ah, già, è vero. Si è buttato e l'ho ucciso. Emeraldi. Ok. Ottimo. Una freccia. Basta. C'è per caso una anvil? No? Ok. Si proceda. Ok. Ok. Vabbè. Direi che possiamo... Possiamo andiamo avanti di là. Mettiamoci gli stivaletti giusti. Questi che sono? Ho trovato io che sbaglio. qui. Ok. Lo zombie tutto incantato. Ah, però mi dovevo salvare quel punto. Nessuno? No? Ok. Ah, qua c'è il taglio dei ciani. Oh, 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 oh. C'è questo animale? Questo animale, oh. Alcun altro? No? No? Ok. Struttura gigante Giugante Ok Ah no questo è il templo Aspetta no Lo posso comunque cambiare Vabbè Là c'è un altro cottage Con il stesso di quelli di prima Non è da dove sono venuto no Là c'è luce lava Altro villaggio Oh che sta succedendo qui Party E perché è tutto rotto Ah no è proprio così Guarda No li ho fatti troppo veloci Fermi Modifico il volo Vabbè devo controllare una cosa Ma la controllo Scusa la domanda eh Ma io ho messo 0,1 0,25 Facciamo così allora Tiè Però ora Devo ricaricarli Quanti ne sono Ok Alcun altro Da questo con la chestplate Di netherite Io non sto vedendo Dove sto andando Infatti Che cacata Suga Ok Insomma si sono dimenticati Un attimo No Guarda quello che lo spinge Dai mangia Ok Uh 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 Grande Ok Madre santissima di tutte le madri Ok Forse dovrei dormire Basta Devo fare ricarica Ecco Ok Via Oh così I zombie ora sparano Sì più veloci Ma Non esagerando Ah stronzo Ah ah Ok Ok Uh Che fatica Però che idea Aspetta Mi viene un'idea Adesso bei Phantom Dove me la scrivo Dove me la scrivo Blanco Note ok a posto si può modificare la grandezza di phantom sarebbe figo che dice rendiamo e la complimenti o render perché mi mancava attenzione ottimo via la carne marcia maledizione e poi più il da no basta oh c'è troppa gente basta cuccia questo devia ok trollo che non ci sia nessun giro dove vai tronzo ok ok un po' di cibo ah grande ottimo un sacco di sberle c'è il creeper c'è il creeper ho detto ok ah l'ho lisciato bravo vai 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 picchiatevi grazie gentilissimi non dovevate proprio che fatica allora vediamoci queste ultime barbe bietre qua aspettiamo che con la balla della fame ancora basta cuccia vedete che si fa in questi casi vado a cagare ok 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 ma questo mi sta inseguendo è come quello sulla skyblock mi ha raggiunto fino alla fine del mondo è sparito mi ha raggiunto e mi ha ammazzato e mi ha fatto quittare la skyblock oh sono al 30 mazza quanta gente ha ucciso allora là c'è un che cazzo c'è là cosa diavolo c'è lì no un accampamento villager non l'ho riconosciuto biglia ok 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 allora di là devo andare via boing no vabbè nell'acqua ma sto monastero dove cazzo niente ancora lontano sono non ci arriverò mai vabbè diciamo che adesso metto in pausa e vi avviso vi faccio vedere quando trovo qualcosa di interessante o il monastero allora mi si sta finendo la slime sling ciò vuol dire che a caso ci tornerei col k ho trovato delle un'isola degli slime degli slime lì e ci volevo no 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 questo sta salendo qui sopra ecco sarebbe adesso strozzo madonna mia il danno che fanno guardali guardali questa volta non mi potrei raggiungere da dove stanno salendo via evacuare volevo prendere un filo oh forse lo trovo qui dentro non mi ricordo si possono trovare i fili ok nooo ossidiano shockwave 2 no panini dove sono ecco maledizione devo prendere c'è una ragnatilla la devo prendere semplicemente un filo e me ne vado poi mi ha mai che arrivare lì su è un casino perché ora è pieno di scheletri però tecnicamente lì si dovrebbe rompere l'elmetto a un certo punto ok no no ma da dove sono circondato oh ma là c'è qualcosa vediamo se riesco a non andarci ok oh oh aha ok e ora me ne vado ciao oh no volevo dire ho detto ciao ecco lì sono andato mission impossible è stata una bella missione via torniamo all'esplorazione fuck eh che tattiche non riesco a stare sull'isola perché ho paura tanto rimbalzo ho appena realizzato che mi servono due fili oh no mi sceli in posto vai parte 2 quella musica di pokemon vabbè guai c'era un altro filo lì dove mi sono buttato prima quindi no dove stai andando sull'albero ok lì c'era un'altra regnatela ok eccoci qua via 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 verso l'infinito e oltre ok è stato più facile questa volta dopo che avevo già pronta la la cosa ma questa strada perché arriva da qui giù boh che poi ah l'ho fatto in tempo volevo piazzare una torcia ed andarmene fa cadere tutto eccoci qua frena uh sta gente ha combinato l'accoglienza riproviamo tada questa me la mantengo poi le unirò sì l'acqua è ancora finta purtroppo via torniamo a noi dove è la mappa ok via no sto morendo di fame fuck 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 ho appena notato che ho dimenticato una cosa nel codice mangia per l'amor del cielo ok va ok via si riparte wii ho trovato una torre pillager e c'è ecco adesso arriverà un'orgia di creeper ok qua dentro c'è un creeper con un ammasso di creeper facessi così ah ciao oh no bastardo mi ha lanciato una cosa di creeper al volo proprio what con chi ce l'ha what the fuck non ho ben capito cosa è successo ma va bene prendo volentieri questi non ho capito cosa è successo ma ad un certo punto i creeper sono girati e mi hanno detto nope oh cazzo via da là non mi riesce appena dicevamo ah questo lo do lo prendo questo lo prendo la pelle pure ce l'ho stonks questo non lo posso prendere qua c'è una tnt che succede ma fa lo stesso suono di creeper wow ma sono amici miei no come no scusami ma li ho sponati io mmm pensavo che accendendola io li proclamasse come miei invece non so più che mettere dove metterle e cosa mettere devo farmi uno zaino prima di venire qui c'è sta qui ah no pezzo sospeso domanda ma se lo rompessi invece ah vedi c'è pure il pulsante ciao creepers wow what the fuck ma mi ha dato knockback tantissimo ma c'è un golem lì ma lo vado a liberare ma sei morto no pensavo sanguinassi per più tempo vai golem ti salvo io mazza sti stronzi dov'è ce n'era uno lì l'ho visto dove sei ti ho visto sei responato bastardo vabbè no ok insomma golem buona fortuna per la tua vita io torno a esplorare no ma qui non si finisce più ho tratto un'altra nave non è di pillager ah questa è dritta però ci sono gli scheletri sopra interessante vediamo se sono come i pillager che non si muovono cos'è questo è uno spawner what the fuck ma che diavolo smoke on the water vabbè questi affondano ma è normale che ci siano gli spawner fuori boo ah ciao lei non è dello spawner ma è uno spawner di delfini what the fuck what the fuck what the fuck mmm che volo non sto capendo oh oh mio dio ho capito spanano le schede di sopra i delfini mio dio che dolore mi ha tolto quasi tutta la vita sto stronzo l'accetta di tua sorella ok serve la velocità dei delfini ecco via no 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 direi che ah non riesco a fermarmi aiuto eh niente ok dove sono? dove dove sono finito? ah ero di là prima ok anzi niente se ti beccani i delfini e c'hai gli stivaletti è finita oh là ce ne sono altri mi servono via rallenta rallenta mettala prima va bene anche così ok ah becchiava sott'acqua non può tenerlo addosso ah e chi non può fare più un cazzo ma l'idea è fighissima ma hanno 30 cuori what the fuck senti sai che ti dico ma che c'è no 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 queste mi hanno dato a sberla muoio no ok vai giù ah nega stronzo quanti livelli da 43 a 56 perché sono lontanissimo da casa chi è? che succede? ma si delfini mi possono dare una spinta? dov'è? c'è qualcosa che non va si delfini non mi... eccolo ok vai no mi sei cospegato strada eh sì dovevo andare di là porca miseria vabbè ma una domanda ma così che succede? ah no ti blocca subito l'acqua oh là c'è un delfino vieni da me vieni da me vieni da me oh yes partiamo vai 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 oh sì brrrr ottimo così si fa che cosa è successo? ho fatto di un doppio salto che diavolo che cosa è successo? vabbè sto andando alla direzione giusta? sì via niente ancora nada un'altra nave sono di nuovo pillager sono delfini no non ne cato pesce niente come è venuto in mente a fare questa cagata finivo sopra mi stupravano ciao signori una svolta siamo arrivati alla una delle due coordinate come vedete il palino si sta muovendo quindi devo solo andare dritto adesso zanzanzaglia via no vabbè cos'è questo? nope 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 switch dreams che belle le testine dreams io direi a questo punto si direi di dormire perché il phantom sta iniziando a diventare un po' una rottura di scatole considerando oltretutto il fatto che ma che diavolo è a questo posto considerando anche il fatto che la notte dura di più direi che direi che direi che ok ho mangiato anche cosa? un villaggio un villaggio dei cosi non c'ho come non adoro no no è bellissimo a cavallo delle mucche non li voglio uccidere sono bellissimi farò parkour uh le api una una lodestone ah no si è una lodestone si chiama non mi ricordo come si chiama lodestone si che ci vuoi puntare il la bussola per tornare per capire dovevi andare vabbè c'ho la mia mappa non che mi freghi più di tanto maestro mi interessa ferro per velenia non voglio rompere questa bellissima casa no i pulsanti sono per bellezza per lo smiting table a posto ah vediamo un po' carino come è posto salve dica lei che vende è un brutto questo minchia mo l'ho visto allora non avrebbe nemmeno funzionato il caosi grazie quello sopra voglio sapere come si chiama non lo saprò mai così non mi può colpire così si però aia aia lupo aiutami tu sacrificati per me vieni qui vieni qui uh grande lupo mamma mia che botte no mi dispiaceva ucciderli se erano gli unici viventi che sto posto ma visto che respawn e che possono anche schiattare che posto carino potrebbe essere prenderei anche se non si capisce cosa sono letto un altro lodestone abbiamo la piazza centrale oh signore uno spawner di mucche no non è vero sicuramente spawneranno gli stronzi uno smerando liscio vedere cosa c'è sopra ho detto ah ok un'idea ah no niente è solo per guardarsi in giro ok sboing 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 ok wow guarda questo la cattiveria di un di un signore sono bloccato ok ecco guardami no non è vero ok è stato interessante direi di continuare il mio viaggio il nostro ok ho un problema enorme ho mangiato la zuppa di funghi sospetta zuppa sospetta mi ha dato levitazione vabbè tanto di solito oh dio santo dicevo non vabbè voi direte vabbè qualche secondo come tutte le zuppe di funghi delle zuppe sospette no mi ha dato 4 minuti di lievitazione e ora e ora ora direi di mettermi qui e aspettare che finisce 4 minuti no 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 ma come faccio vabbè io aspetterò 4 minuti quando cado richiamerò ok sono rimasti un secondo che poi è vero anche ci penso c'erano le slime boots quindi potevo terrare anche sul terreno non ci ho pensato a questa cosa vabbè ciao lupo andiamo mi aspettavo di dover stare fermo 4 minuti dove una zuppa sospetta ecco ma velena ma mi ammazza ma mi boh peggio 4 minuti di lievitazione vabbè torno a muovermi poi arriverò il pallino è ancora piccolo allora c'è un problema mi sembrava strano che fosse così lontana questa cosa ho controllato i dati della mappa la x la x non si vede il mouse non si vede il mouse perchè non si vede il mouse c'è scritto cattura corso ah ecco non lo vedevo io forse la x c'è la x nel senso il monastero dice il simbolo sulla mappa sta a meno 6.000 3.000 ma la mappa punta a meno 6.500 più o meno è giusto 10.000 io sto andando a 10.000 sono quasi arrivato a 10.000 meno 6.500 10.167 ma aspetta posizione di che cosa allora ah no quella è la mia posizione credo sì ah no quella è la mia posizione immagino ah no quella è la posizione della mappa ok no allora niente questa mappa mi sta facendo andare da tutta altra parte meno male che ho controllato però ora voglio sapere che cos'è z da negativo ora voglio sapere ora ci andrò in creativa teletrasportandomi ovviamente cosa c'è di là se c'è davvero qualcosa e a che coordinate devo arrivare proviamo così ok così l'ho sorpassato torniamo indietro ancora indietro no sono avanti addirittura devo andare indietro vabbè ci siamo capiti facciamo così oh mondo attendiamo pronto c'è nessuno ah eccolo qua ah guarda che precisione sono finito nel punto preciso a quanto pare però ancora non mi carica tutto perché starà caricando 400.000 cose no direi che qui c'è il mare e nessun monastero che dire che dire che dire almeno 6.600 3.000 aspettate un attimo almeno 6.565 guardate 6.65 2.6 vabbè e 3.800 dovrebbe essere qui sarà quello forse la X è leggermente sballata ma non sto capendo fermi tutti vabbè non ci ho capito molto so di fatto che questo è il monastero con gli stessi scheletri del cazzo oh è a noi due adesso vediamo come è sto monastero qua poi sembra molto come l'altro no questo è il monastero ah no quello è uno scheletro di questo questo coso questa è un'altra struttura dovrebbe esserci un'entrata da qualche parte forse era qui no ah forse è lì ah no da dove cazzo si entra vabbè io entro trasgressivamente via un posto tranquillo vediamo ma te è tranquillo e se sei il monastero poi tu si trova un monastero si praticamente è la casa di villager dove ci abitano due villager tutto sto casinò ah mi aspettavo una struttura gigante un mega dungeon no i villager è carina come idea però però i villager tempio infestato di qualcosa oh vai a cagare tempio infestato di che fermi trova una mappa dell'esplodatore del tempio infestato oh stavolta il segno c'è almeno quello io dove sono sembra in basso a destra eh dio vabbè io direi basta esplorare per un po' direi di tornare a casa poi hanno dei vicini piuttosto tipatici eh comunque è figa come tutte le strutture della moda per carità però quelli spawnano davvero troppo spesso questi vivono proprio reclusi vabbè un monastero mi sa che è quello quello questi vivono proprio reclusi infatti non ci si può entrare se non per vie traverse che figo 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 triste perché mi aspettavo un mega dungeon c'è la mappa ma va bene qua potresti fare anche i raid tanto i mob non possono entrare vabbè qua ci sono venuto citando e volando ma ci sono venuto ma secondo me sapete che è successo a un certo punto io sono arrivato al punto giusto non ho controllato la mappa non mi sono reso conto che ho saltato la zeta quindi ho continuato ad andare pensando che fosse di là e invece dovevo tornare indietro quindi la colpa è mia non era bugata la mappa conoscemo io eh normale allora ah guarda qui dove c'è il monastero sono tutte queste case strane qui facciamo così monastero monastero no così mi sposto la mappa io voglio navigare qui ok saldiamo il monastero e direi che volerei a casa di cattiveria e nobiltà dovrebbe essere all'incirca di là perfetto eh no ma non mi puoi cioè che cosa diavolo what ma cosa diavolo è cosa sono zombie o scheletri altri scheletri c'è anche uno zombie ben bardato devo dire la verità un piccolo diamante mazza benissimo bardato ah ok non era la mia mod che le ha messo la roba ottimo uh protection 2 tecnicamente non lo dovrei poter avere io protection 2 we are left together perché non si vede niente ahia tua sorella ah questo è normale c'è un fungo in testa fammi indovinare allora troppo il fungo vedo una pozione no ok vedo una ciolla ok ho ben capito se come si entra se si entra oh ah c'è anche un villaggio bene no che cos'è quella cosa ooooh guarda gente ok tutti i zombie li posso uh ma quanti no ma sono tantissimissimi no ma c'è qualche spawner non è possibile che no sono troppi via ma che cos'è questa cosa faccio tornare tipo l'armatura di netherite what ma che diavolo che poi aspetta che cos'è quello che ho trovato adesso lift mi qualcosa sky eye no fena smutata fena nel fena del chip fire pirate jump non lo so non so cosa io abbia trovato ma va bene non penso sia della tinker quindi ora mi serviva l'evitation 4 maledizione ma io voglio salire qui sopra vedere cosa c'è non posso manco fare i pillar però potrei fare beh così mmm c'è uno scherzo guns and roses una torn bone towers ah ok la borsa è rosa rose quelle guarda lo zoom mi ha inseguitolo lì giù qui si entra vedi non ci posso entrare ok ok questo è un buon modo per entrare si non buttarsi di sotto è vero posso usare le cose che ci sono qui ok dove mi sto non infilare questa è un'ottima domanda grazie andermi nel blocco d'erba ok di certo non mi toglierò gli stivaletti per imbalzare da qui nooo appunto perché se cado muoro fortissimo mazza ma c'ho 60 livelli no vabbè ma che cosa diavolo ci riprovo vai aspetta dove posso mirare lì ok no fermo ok come faccio aha aha ah quasi l'idea c'era usare la torcia ok è andato meglio non l'abbè visto oh mio dio passo qui ok deve uscire a salire qui sopra ah quasi ok no non devo andare qui ok perfetto sì dove stavo prima qui ok sì qua stanno intanto spawnando un sacco di scheletri ma qui mi hanno visto non penso si stanno a muovere per me no si muovono a caso credo oh un'entrada più o meno quasi allora non si entra sì che si entra oh salve mamma mia ma che cos'è questo posto gigante no ogni volta che attivo questo aspetta aspetta per la us farò la fishing out thornborn towers giustamente ah un lingotto d'oro mazza ma qua ogni torre c'è c'è il signore voi fate un po' male che bastardo di nuovo mette le pozioni di guarigione che in realtà sono di danno che gare mi ho dimenticato ok dovrei aver torciato però dai ok va bene no ce ne sono altri u c'è ma purtroppo sto orzo è brutto muori muori no ok questa volta ho aspettato torcia qui non spawnano ok guardando qua sotto è anche un'orge che te lo dico a fa ma sono scesi da qui c'è uno spawner ma qua la tnt da blanciare guarda ma quanta gente porca troia questo è spawnato no perché sei sceso bastardo mangia 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 no qua mi sa che bisogna tornarci quando siamo un po' più putenti però tu muori adesso muori mi stai sul cazzo muori si direi di si no direi di tornarci più avanti quando si ha un po' più di protezione soprattutto di botte vabbè direi di salvarmelo insomma allora torn cose towers mettiamola così ok è direi di unire questi il matrimonio e di andare fucking via ma però voglio esplorarlo ma cosa c'è niente non lo sapremo mai vai vado a casa che patica ciao lupacchiotto mamma mia ah l'altro lupo chissà che fine ha fatto rip vabbè era un lupo di ripiego e mamma mia che casino cazzo è gentissimo mamma mia che cosa ho dovuto fare ah che giri che cose alla fine sono stupido quindi niente boom va bene direi che sono stanco addio wii prossima volta farò tutte le librerie del caso e mi incanterò una bella armatura di diamante probabilmente questa perché non ho più diamanti addios diemas e Grazie.